Oggi cammello un po' rchettato alla retina, vedete, con questo tortello sterilizzato si va, diciamo, a sgrassare, a levagli grasso, a salare con questo sale preso direttamente dall'Himalaya e si va a massaggiagnene, vedete che il massaggiamento, diciamo, gli fa buono, la carne è la rima più tenera, la rima più tenera perché gli è molto importante anche, diciamo, la speziatura, ecco, viene speziato, diciamo, proprio con questa sarsina, con questo pennello comprato all'Ikea, dove hanno comprato le mani, molto tutto fatto in un ambiente sterile, diciamo, disinfettato, è un ambiente con il dito si va a salgiagnene per vedere se manca di sale, vedete questo qui, il mastro fornaio, una vita e lo fa, lo sa come lo fa lui, non lo fa nessuno, ragazzi, vedete, gliene va a inacquare per, diciamo, per fargli la fumiata, la fumiata gli è importante, vedete questi ragazzi, questi ragazzi di Maralotto preso apposta per la cottura, diciamo, dei cammello un po' rchettato alla retina, vedete che spettacolo, ragazzi, si va a sigillare il forno con questa argilla presa direttamente dal fondo di Pozzo Nero, perché gli dà quel sapore ambraco, più buono, più retro gusto, amarognolo, vedete, ah, l'esercito, addirittura ci vuole l'esercito per fare stare qui questa cosa, ma andiamo all'assaggio, ecco, qui siamo alla Sagra di Cammello in provincia d'Arezzo, vedete che spettacolo, questi ragazzi stanno, diciamo, affettandone per tutti i popoli, quindi è solo sempre ad essere, mi stanno fanno le sagre, i rannoio, le festicciole, c'è la gente di paese a mangiare, gli è la solita, la stesima, qui vedete l'impiattamento, a me mi fa gola, oh, tieni che lo può assaggiare, senti io un pezzettino, 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 guardate che spettacolo, via un po' pastrello, con questa mannaia, mi fa paura, poi il Rolex, ragazzi, farzo, compravo, vedete, con le mani, che spettacolo, germi miei!